ciao ciao ragazze ciao a tutti ben ritrovati qui sul mio canale creazioni notturne bijoux oggi vi mostro in questo video delle cose meravigliose è vero pure che questo video avrei dovuto girarlo tanto tempo fa risale a novembre questo questo regalo ricevuto da una persona meravigliosa però non si è mai non è mai troppo tardi ringraziare e quindi adesso che ho un pochino di tempo in più posso dedicare veramente l'attenzione giusta a una persona speciale vi mostro le bellezze dei regali ricevuti da claudia bordigoni che è una persona meravigliosa una ragazza dolcissima con la quale si è instaurata un'amicizia virtuale e non perché poi alla fine ci siamo incontrate e ci siamo riuscite a conoscerci siamo riuscite a conoscerci di persona ci siamo incontrate a montecatini e in quell'evento lei mi ha fatto dei regali meravigliosi e adesso mostro subito a farveli vedere parto subito sono senza cavalletto per cui perdonatemi se avete qualche movimento allora ragazze ditemi voi se non sono meravigliosi questi orecchini questo è un progetto di mirarte non ricordo il nome però sono stupendi non lo so hanno questo che qualcosa di orientale io ultimamente mi sto fissando con le cose orientali per cui mi piacciono da morire oltre che l'abbinamento colori stupendo questo oro antico mi piace tantissimo la raffinatezza che claudia utilizza per tutto scusate il dito mi sono mangiucchiata un dito e dicevo è molto molto precisa e raffinata e utilizza dei materiali meravigliosi guardate queste monachelle e un rivoli svaroschi meraviglioso con questi queste sfumature su dall'arancio fino al viola stupendo quindi ha abbinato in maniera perfetta anche i bicono da 4 mm e le rocaille loro tutto finisce con questa goccia io credo sia appunto un elemento svaroschi stupendo tutto veramente stupendo sono stupendi questi orecchini in abbinamento a questi orecchini meravigliosi claudia mi ha regalato anche questo braccialetto che io credo che sia un braccialetto di un progetto di margherita fusco se non erro forse il bracciale bolle non lo so comunque è stupendo e questo è perfettamente abbinabile agli orecchini in quanto le super duo sono degli stessi colori le perle sono credo da 6 mm e sono anch'esse oro e bicono da 4 mm rocaille oro proprio come gli orecchini sono meravigliosi mamma mia poi poi dicevo oltre a quella parola meravigliosa claudia mi ha regalato questi orecchini che sono uno splendore in questa tonalità di azzurro e argento sono una meraviglia cioè non lo so io sono rimasta scioccata quando li ho visti sono lunghi l'utilizzo dei materiali e questo scusatemi sono state utilizzate delle perle da 4 mm delle rocaille l'argento questo rivoli credo che sia da 14 mm azzurro che riprende tutto il colore delle perle in abbinamento questi bicono da 4 mm meravigliosi come dicevo prima claudia è molto molto brava ad abbinare anche gli accessori quindi le monachelle sono spettacolari guardate sono sono belle il tutorial di questi orecchini sinceramente non lo conosco perché cioè dovrei cercarlo perché lei me l'ha indicato e non mi ricordo è una ragazza straniera se riesco a trovarlo lo metto nell'infobox sono stupendi allora come creazioni abbiamo terminato e direi che sono anche un bel po e anche molto molto belle vi mostro anche gli accessori ciò che mi ha regalato queste sono delle chiusure a calamita nella versione argento nella versione oro e poi ci sono questi questa è stupenda cioè una meraviglia non ho mai vista se riesco purtroppo senza cavalletto non riesco tanto bene a mostrare guardate che meraviglia è stupenda stupenda questa la conserverò in maniera molto molto con molta parsimonia proprio perché mi piace un sacco vorrei abbinarla una bella lavorazione non so che materiale sia e soprattutto non so dove lei va a trovare queste meraviglie poi ci sono queste queste due abbinate mi sanno di africa non lo so una bella creazione estiva con ispirazione africana questa poi queste che sono dei terminali sembrano quasi in argento sento dei rumori penso che la peste mi stia rovinando casa speriamo di no in abbinamento alle chiusure claudia mi ha regalato anche queste splendide monachelle claudia mi devi dire dove le prendi perché effettivamente sono spettacolari allora ci sono queste sempre oro ovviamente sono due ho preso quella sbagliata ecco questa fa la sua la coppia è questa con questi strass uno grande centrale e formano un fiore con quelli più piccoli si è incastrata un'altra questa sembra una calla una meraviglia questa non so sinceramente come utilizzarla perché vedo solo un piccolissimo foro sopra forse si aggiunge una perla non so poi ci sono queste che sono spettacolari tutte oro e queste che sono simili ma un po più piccole questo è frontale si mettesse a fuoco e sul retro ci sono due forellini cioè due gancetti adesso non so se questo più piccolo viene ripiegato su se stesso per mantenere per essere inserito appunto nella nella creazione poi mi ha regalato questa sorta di rosario cioè sono sì ciao era fuori fuoco era fuori dall'inquadratura in questo filo di perle piccolissime lavorate proprio come se fossero un rosario sembrano pietre vere dal viola scuro al viola medio è un glicine molto molto chiaro poi ci sono queste madre perla io purtroppo stando senza cavalletto non ve lo posso aprire però sono due molto grandi credo che siano un diametro di tre e mezzo tre centimetri e mezzo su questo blu stupendo e poi questi cuoricini sempre madre perla molto grandi la testa a fuoco mio figlio ogni tanto c'ha le crisi poi cos'altro questa bustona di materiale creativo sempre guardate che meraviglia ve la apro così amore che è successo allora troviamo 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 queste questa rosa ormai ho perso la concentrazione perché è arrivato mio figlio questi sono spettacolari questi questi li amo li adoro li utilizzerò per farmi degli orecchini così mettendo semplicemente una monachella sopra li adoro sono con degli strass credo che siano in resina in plastica non so sono bellissimi sto stai facendo tu bellissimi molto luminosi poi ci sono queste io ve li mostro così come vengono e vado più veloce perché mio figlio adesso comincerà a distruggere tutto perché non va molto bene queste coppette questi terminali copricoppette grandi e guardate queste gocce sono una meraviglia le adoro questa pasta di turchese meravigliosa una meraviglia cioè solo queste parlano da sole sono una meraviglia poi ci sono queste fiori queste roselline questi fiorellini credo vadano abbinate su su delle creazioni ad embroidery credo non lo so sinceramente mi devo un po' impegnare con la fantasia queste gocce che sono un colore pastello è un glicine molto 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 chiaro sembra quasi grigio anzi forse un grigio un azzurro e queste sono glicine ecco ecco perché ricordavo dalla telecamera sfalza un po queste sono glicine queste sono un azzurro un grigio azzurro queste altre bellissime delle altre gocce sul rosso queste copri coppettine e questi che sono i miei preferiti come potete ben vedere utilizzo questi bracciali mi fanno impazzire stile pandora e lei me ne ha regalato uno morbido e uno anzi due rigidi uno con questa chiusura bellissima e uno come questa che è uno spettacolo questo lo devo usare come so io con delle lavorazioni con una lavorazione un po di spirali non lo so spirali in super duo queste due rose sono spettacolari e poi per finire ultime ma non per ultime questo sacchetto spettacolarissimo di pietre preziose cioè no io voglio morire sono bellissime queste due gocce verdi meravigliose gocce vabbè ciao navette che con i miei incanto stanno da dio questi rivoli spettacolari ditemi voi 14 mm di una colorazione rossa rosso viola stupendo madonna che belle poi c'è questo questo sacchiottino che una meraviglia sbaroschi ovviamente claudia non ti smentisci mai questa cosa questa goccia questa cosa meravigliosa madonna mia cioè come si fa a resistere come si fa questo rivoli che è una meraviglia a b più grande da 16 mm credo no da 18 e poi poi ancora questi rivoli sull'azzurro da 14 credo quest'altro componente a forma di quadrato un quadrato si sempre sbaroschi e questa goccina un po strana che una meraviglia anche questa niente io sono persa persa innamorata persa che meraviglia ragazzi io vi metto tutto così così potete ammirare no vale vi volevo far vedere il bracciale guardate come è raffinata con una moneta sempre sul color oro bellissima bellissima stupenda claudia che dire con questa meraviglia di creazioni io cerco di sistemare tutto per renderti giustizia questi materiali meravigliosi e il tuo affetto soprattutto che mi doni ogni giorno ti ringrazio e ti mando i miei più cari cari saluti e più grandissimi ringraziamenti per tutto questa per tutta questa meraviglia ma ripeto soprattutto per la tua amicizia e per la tua presenza e niente ragazze seguite claudia perché bravissima nelle sue creazioni ma soprattutto è una bellissima persona ve lo ripeto meravigliosa io vi ringrazio claudia un bacione grande grande ci sentiamo su whatsapp e al prossimo video ciao ciao